perfetto 1, 2, 3, 4 non ritornerò più la scelta che ho preso è questa non torno più a casa non torno più a casa non tornerò più la scelta che ho preso è questa non torno più a casa per molte persone le parole sono come plastiche sacchetti vuoti, fiamme colorate ma non per noi sono ciò che distingue l'uomo dall'animale ciò che distingue l'anima dal vuoto e dovremmo ricordarcelo sempre però una promessa non è affilare un desiderio di una stella cadente non è sentirsi legati per la paura di te doveva significa mettersi in gioco e dimostrare a se stessi la fedeltà verso la propria parola non torno più a casa 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 non torno più a casa